ciao sagittario benvenuto in questo nuovo video andiamo oggi a chiedere cosa ti sta per accadere a breve cioè nel prossimo futuro prossimo futuro dal momento in cui tu vedrai questo video non ho dato tempi specifici non darò tempi specifici alle carte ok questo video avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai allora interroghiamo i tarocchi ma partiamo dagli oracoli va bene questo mazzo un mazzo di oracoli come vedi che ho creato io ho fatto io queste carte se le vuoi avere per avere informazioni puoi scrivere una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com oppure vai giù nella descrizione di questo video e trovi il link insomma per vedere il video in cui le presento un po meglio eccetera va bene allora andiamo a vedere per il segno zodiacale del sagittario cosa sta per accadere al segno del sagittario violenza però si comincia poco bene violenza o che succede sagittario la forza o questa signore mio benedetto il raccolto l'amore sono cascava un po troppo ne volevo tre e quindi a questo punto è la chiusura guarda che fra l'altro c'è pure anche l'unione accidenti sagittario qui si chiude un rapporto c'è poco da fare magari è d'amicizia magari è di lavoro non è detto sia matrimonio o comunque ecco il tuo compagno la tua compagna però ecco qui la vita non è solo l'amore la nostra coppia specialmente noi fanciulle andiamo subito a pensare a quello anche perché c'è l'amore ma l'amore è a 3.360 gradi l'amore per il tuo cane l'amore per la casa l'amore per la famiglia l'amore per il tuo lavoro per un'amica un amico quindi amore nel senso proprio di affetto profondo l'amore per un genitore cioè voglio dire quindi non ci facciamo tradire fra virgolette dall'immaginetta dell'amore sì anche l'amore guarda qui c'è l'amore e l'unione ma fra due persone fra due persone quindi non è detto che vadano lì se il tuo matrimonio la sua coppia va ok continuerà andare ok qui ci potrebbe essere un amico un collega o comunque un altro rapporto che viene meno per esempio qui posso vedere anche un qualcosa che noi avremmo voluto fare che non ci riuscirà a farlo un qualcosa che noi avremmo voluto ci sarebbe piaciuto o ci saremmo aspettati ma va bene di raccogliere potrebbe non andare a buon fine quindi magari c'è un qualcosa un lavoro comunque una situazione per la quale ci siamo dati un grande affare però i risultati come dire che il problema sia proprio il raccogliere i frutti del nostro lavoro per esempio ci potrebbe essere una società una società che viene chiusa perché il gioco un vale la candela c'è una perdita sul raccolto capito ti voglio dire insomma andiamoci ausi vediamo per il sagittario cosa sta per accadere signor zodiacale sagittario cosa sta per accadere signor la giustizia della serie si rivolta ci sta anche quello è ragazzi però voglio dire se una coppia è già finita c'è un è che uno si sveglia la mattina e chiude un rapporto vediamo cosa sta per accadere al sagittario giustizia torri qui c'è poco da raccontarvi bambini qui c'è una chiusura c'è c'è una chiusura c'è la fine di un rapporto che può essere una collaborazione la l'interruzione di un contratto anche capito vedi il 3 di il 3 di denari la luna e il 4 di bastoni ma allora io credo che qui potrebbe essersi insinuata una terza persona nel nostro rapporto rapporto che potrebbe essere lavorativo è potrebbe essere lavorativo vada bene quindi un nostro rivale eccetera se si parla proprio della coppia di un'unione qui anche qui ci potrebbe essere una terza persona che insomma l'entra un pochino è entrata un pochino in mezzo si dico la verità posso vedere posso vedere anche questo ora ma è qui qui effettivamente c'è la casa la casa la famiglia nel senso signore benedetto vediamo un po' questa è quella torre io ci vedo anche l'interruzione di un contratto però effettivamente anche il matrimonio è un contratto il matrimonio si firma è un contratto firmato quindi potrebbe esserci effettivamente anche un divorzio vada bene non è detto sia il tuo magari ti arriva notizia che tu figlia tuo figlio il tuo amico la famiglia la tua cugina la sua sorella il tuo fratello qualcuno vicino a te effettivamente sta per divorziare per esempio posso vedere anche questo da queste arte quindi non è detto che ti tocchi in prima persona capisci cos'è quella torre per il sagittario vedi la temperanza il 10 di coppe qui c'è anche qui c'è anche un qualcosa che ti fa come dico io noti si tappa anzi si stappa la vena cioè qui c'è un qualcosa che magari tu hai tenuto tu hai tenuto tu hai tenuto la tu scoppi ecco detta proprio in parole così quindi ci potrebbe anche essere semplicemente questo uno scatto rabbioso violento appunto della sua volontà come dire e ora sai e ora mi sono rotto rotta insomma le scatole basta e qui e là magari tu spacchi anche tre o quattro bicchieri capito ecco qui c'è un qualcosa che non che non mi torna che cos'è quella luna per il sagittario il cavaliere di coppe e il re di bastoni con il carro capito ma guarda io credo che qui tutti potresti anche arrabbiare con lui con lui o lei se tu sei l'uomo se tu sei la donna insomma ecco perché questa persona potrebbe effettivamente o essere scomparsa non darci spiegazioni di un qualche cosa un qualche cosa di un qualche tipo non essere chiaro chiara abbastanza con lui e la cosa ci potrebbe fa parecchia arrabbiare cioè io qui vedo un litigio più che altro uno scoppio d'ira di uno di voi cioè io credo che tu sia te sagittario che tutti in alberi che tu t'arrabbi capito sagittario quindi penso più che altro questo non escludo non escludo che tutto sto ambaradà possa accadere anche sul luogo di lavoro perché qui le carte mi fanno vedere anche il lavoro quindi magari magari accade proprio lì effettivamente insomma sul lavoro ci si vive ragazzi 10 ore al giorno 8 più insomma il pranzo quello che vuoi fatta insomma capito quindi sul lavoro ci si vive ecco io comunque vedo vedo anche questo se avete dei figli se siete una coppia che ha figli e v7 un po in combutta un po qui ci potrebbero essere dei litigi anche per quanto riguarda un figlio un figlio comunque i figli c'è un genitore vuole una cosa quello dice l'altra sono un po di casino quindi qui un po di cassino c'è un te lo nego cioè che devo negare sono talmente chiare capito diciamo che prossimamente sarà richiesto molto impegno da parte sua molto impegno da parte sua per riuscire a superare questo questo ambaradà ti ripeto qui c'è un qualcosa che viene chiuso un rapporto che viene chiuso che sia d'amore o che sia di altro tipo è un rapporto con un'altra altre persone che viene interrotto ecco andiamo a vedere con quali segni zodiacali il sagittario avrà più a che fare vediamo un po allora questo ok segno zodiacale dei gemelli vergine bilancia il lo scorpione l'acquario acquario viene subito confermato la vergine l'abbiamo vista si viene riconfermata subito anche lei il sagittario come te quindi magari un altro sagittario insomma cos'altro il leone segno del leone segno zodiacale dei pesci e del toro l'avevamo detto il toro no quindi è segno del toro basta non ne tiriamo più se no sono troppi va bene dimmi un po chi e cosa ti richiamano queste cose cose cos'è che stai costa e live cos'è che stai vivendo e quale porta tu pensi di potere e dover chiudere ecco in poche parole io tanto ti aspetto qua è al mio prossimo video va bene ciao sagittario eccoci qua vi lascio ai miei vino Grazie a tutti